Allora ben ritrovati, martedì è la serata che l'ipodromo di Cesena dedica al Super Frustino Super Frustino che ha già visto nelle due eliminatorie che si sono disputate qualificarsi Crescenzo Maione tra i giovani e Antonio Greppi che le voleva vincere tutte martedì scorso poi ha detto qualcuno la lascia lì, un po' fatica l'ha fatto Sì, ha 20 punti, ha vinto le prime due e un secondo, tra tre corso ha fatto due primi e un secondo le prime tre corso, dopo si è calmato un attimo Tu pensi che Edoardo Baldi è arrivato secondo, ha fatto 17 punti, sembrava l'ultimo dei Volcani Sì, sì, ne ha vinta una Sì, una volta secondo, sì, di tanto Ma secondo te un guidatore per vincere il Super Frustino che cosa farebbe? Cercherebbe di vincere tutte Quindi è giusto quello che faceva Greppi, ha senso? Sì, 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 tu ne vinci le prime quattro dopo è difficile Dopo è difficile, dopo ti qualifici Sì, anche le prime tre Basta anche le prime tre Sì, direi di sì Quindi ascoltate i suggerimenti di un esperto di più che vince 3 su 5, 4 su 5 è meglio, però 3 su 5 è sì Ecco, allora ricordiamo che i due che hanno vinto sono già qualificati poi sono già dentro alla finale che si disputerà il 17 di agosto Ci sono Alessandro Gocciadoro, Roberto Vecchione e Antonio Di Nardo che sono qualificati d'ufficio perché hanno vinto tutto quello che si poteva vincere I primi tre della graduatoria dell'anno scorso Ci sarà una Wildcar, si dice così Che è la mia Ecco, che è la tua probabilmente Si vocifera che Ne ho già parlato anche Si vocifera che Quest'anno ci sarà un ex gentleman Quindi Chi più ex di te Quindi bocca al lupo Soprattutto chi più gentleman Ma nel senso che io ho proprio rose a tutti Si, si, si Sono lì Ma comunque, vabbè, detto questo che era il punto perché oggi è martedì ed è giusto che partiamo da lì Volevo che Moreno incominciasse a fare in questa serata, in queste nostre perle Qualche cenno storico dei cavalli importanti A te piace la genealogia, dai Dopo parleremo anche della mamma, del papà e di tutti i nostri guidatori Ma parliamo anche dei cavalli, in fondo sono loro gli attori Parliamo del cavallo Muscletone Muscletone Si dice così? Muscletone? Si, no, si dice Muscletone perché allora non si poteva parlare in inglese Allora i cavalli che venivano dall'America venivano italianizzati McLean-Nanover era diventato McLean-Nanover Ah, non era il pianeta Muscletone? No Muscletone 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 E in italiano diventò Muscletone Un buon cavallo era stato negli Stati Uniti Venne qua ancora abbastanza giovane Aveva quasi giovane, aveva 4 anni Ebbe la fortuna di incontrarsi con Finn Che era il numero uno Quello che ha introdotto l'uso del cronometro Cioè davanti a un bicchiere di whisky Ciao sono Finn, io sono Muscletone Si era a fine era un russo che era scappato dalla rivoluzione russa Prima in Francia poi distanza in Italia Che creò tutti a cavallo degli anni 20, 30, 40 Tutti i migliori cavalli dell'epoca È stato a servizio di Orsi Mangelli, di Castelvetro Di tutti i migliori proprietari di quell'epoca lì E come dico appunto ebbe la fortuna di trovare questo Finn Che lo impostò per la partenza E molte corse, sì 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 Le vinceva in partenza, le vinceva Era un cavallo fenomenale Perché vinse il campionato europeo del 35 In 1.16.7 allora 1.16.7 sui 1.739 Allora si correva Mi faccio scarico un po' perché ti sei caricato Sì Ci correva sui 1.739 metri Pensa che distanza 1.739? E non lo stavate a fare 1.740? No, 1.739 Allora c'è scritto 1.739 Vinto due americhe il 35, il 37 Era un cavallo che se veniva aggredito da un altro cavallo Tendeva un po' a fermarsi Era un timido Sì però aveva quel parziale iniziale Che poi con le piste che c'erano allora Sai andare in testa era già una mezza vittoria Ma adesso non aggiungere altro Perché vi diamo appuntamento alla prossima Perla Mi raccomando Perla Ciao ciao